Non riesce a regalarsi un buon Natale il Sporting di Catanzaro Lido che viene battuto in casa dal Bianchi con un gol segnato nella metà del secondo tempo dal giocatore numero 9 della squadra Cosentina, il che ferma dopo due vittorie consecutive la possibilità della squadra di Mister Pat di portarsi in una tranquillissima posizione di classifica proprio in attesa del derby che ci sarà al rientro in campo il 7 di gennaio, il derby sul federale Sala contro il Real Catanzaro che oggi è andato a prendere il primo punto nella trasferta vicina con l'altra squadra catanzarese della Kennedy. Quindi dicevamo una partita abbastanza scialba quella giocata, la squadra Cosentina ha lamentato una mancata segnazione di un gol per fuorigioco nel primo tempo, però diciamo che al di là di qualche situazione estemporanea ci sono state pochissime occasioni da una parte e dall'altra per cui la partita è vissuta soltanto su questo episodio, un episodio che come dicevamo non consente al Sporting di Catanzaro di potersi attestare in una posizione tranquilla di classifica. Un campionato quindi che prosegue un po' a corrente alternata, quella dello Sporting che riesce a far valere alcuni risultati positivi, una serie di risultati positivi, non ultimo ricordiamolo la qualificazione nella Coppa Calabria, però tante volte in partite delicate fallisce e manca l'occasione che potrebbe essere quella del rilancio definitivo. Per Sporting Catanzaro Lido, Bianchi di Letta Antistica 0-1 è tutto, la linea allo studio.